Mira, questa è la fake Pikachu! Pikachu falso! Super lindo, Mimico, Memex, sì! Molto linda carta, mi piace questo. La prima volta che io miro questa carta, io credo è una carta falsa, ma non, è un po' la verità, Mimicuyo, 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 non lo so la pronunciazione, ma è super lindo, super lindo.